Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Alberto Di Martino, insieme a me il mio fido collega Giuseppe Fischetti. Buongiorno, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ben ritrovati dopo la pausa pasquale, una Pasqua abbastanza inusuale, una sorta di sospensione del tempo, una sospensione nella sospensione, quindi veramente stare fuori dal mondo è ed è una situazione che può lasciare anche una sorta di smarrimento, di sgomento, che è quella tutto sommato che ha attraversato la nostra esperienza recente, mia e di Fischetti, in quanto noi siamo di professione, analisti di impresa, siamo consulenti direzionali, lavoriamo col mondo dell'economia, col mondo delle imprese, facciamo convegni, abbiamo scritto saggi, articoli e ovviamente in questo periodo di fermo macchina, chiamiamola così, ci siamo anche noi trovati di colpo in preda all'agorafobia, cioè a uno spazio enorme da occupare non sapendo bene verso che direzione navigare. Ed è in base a questo che ci siamo posti un paio di settimane di riflessione, di considerazioni e abbiamo iniziato questa esperienza che abbiamo chiamato Flash Meeting, ovvero una tavola rotonda sul web, come spunto e come occasione sia per confrontarci tra di noi e sia per confrontarci con tutta una serie di istituzioni, personalità e personaggi da ogni parte d'Italia, di diversa estrazione d'esperienza, per porci delle domande su che cosa è mancato, su che cosa è necessario fare e quali sono i principali temi che devono essere affrontati quanto prima dal mondo delle imprese per poter iniziare a riprendere un'attività, diciamo tutto sommato, normale, sperando che sia normale. Quindi abbiamo trattato temi di carattere generale, se vogliamo, per quanto applicabili alle realtà imprenditoriali e poi questo esperimento, chiamiamolo così, è piaciuto, è piaciuto perché ha avuto una grande accoglienza, abbiamo avuto parecchie migliaia di visualizzazioni, così tanto che la casa editrice dei libri, la Secop Edizioni e la casa di produzione radio televisiva, Radio Doppio Zero, che ringraziamo insieme a Secop, hanno spinto e hanno promosso a che continuassimo questa esperienza, tanto che abbiamo deciso di cambiare formato e passiamo da due impegni settimanali a tre impegni, martedì, giovedì e sabato, sempre alle ore 10, in cui martedì e giovedì e giovedì lo faremo via video con degli ospiti, mentre il sabato è lasciata ad una trasmissione in streaming solo sul canale radio. La trasmissione del giovedì sarà monotematica con un ospite video, mentre gli appuntamenti del martedì e giovedì saranno in qualche modo legati, se vogliamo, a temi di attualità, ma attualità applicabili o applicati al mondo che noi seguiamo, che è quello delle imprese. In particolare l'argomento che ci interessa oggi e che tratteremo è il recentissimo decreto del governo sul sostegno alle imprese, cioè le misure, l'iniezione cosiddetta di liquidità che dovrebbe servire a far fronte a necessità da parte del mondo imprenditoriale per far fronte all'emergenza coronavirus, sempre nell'ottica che si possa riprendere un'operatività che sia ovviamente sostenibile, economicamente sostenibile, innanzitutto questo. Quindi non entriamo nel merito dei tecnicismi previsti dal decreto, lasciamo la lettura anche ai professionisti, una lettura diretta di quali sono gli importi, le garanzie, le percentuali e i tempi previsti o prevedibili per questa erogazione, ma vogliamo porci dal punto di vista dell'imprenditore, per valutare insieme o dare suggerimenti su come continuare, su come impiegare questa liquidità, sempre che ce ne sia bisogno e sempre che sia conveniente farlo. Giuseppe, a tal proposito tu rabbedi qualche spunto di riflessione che possiamo iniziare a condividere. Senz'altro quello che dobbiamo dire è che era necessario, data l'emergenza davvero di carattere imprevedibile, un qualcosa fuori da ogni dimensione, da ogni portata, per quello che ha generato, ma soprattutto che andrà a generare, era necessario avere un intervento diretto da parte dello Stato. L'economia si è bloccata a livello mondiale, non lo dimentichiamo e quindi questo momento così particolare, così tragico richiede degli sforzi che vanno ben oltre quella che potrebbe essere una condizione ordinaria. Certo, un'immissione di liquidità è la cosa più giusta da fare e su questo non ci sono dubbi, ma questa emissione di liquidità comunque non arriverà nel breve come molti credono o perlomeno tutti ci auspichiamo. La colpa non è di nessuno in questo senso, noi non riusciremo a godere nei tempi brevi che ognuno di noi immagina per tutta una serie di vincoli che ci sono e che vanno superati. Alcuni vincoli sono di carattere strettamente europeo, altri sono di carattere nazionale. Non dimentichiamo che questa emissione di liquidità avviene in una formula di indebitamento, cioè è una garanzia che viene data finché le imprese possano debitarsi con il sostegno dello Stato. Adesso, al di là di come saranno le cifre erogate, seppur abbastanza già evidenti perché abbiamo finanziamenti fino a 25 mila Euro e finanziamenti destinati alle cosiddette grandi imprese. Ci sono dei parametri, ci sono dei vincoli che vanno rispettati, quindi se qualcuno pensa che domattina, la faccio in maniera semplice ma è giusto mantenere un senso di praticità, si possa andare in banca, dopo che comunque c'è tanto di gazzetto ufficiale dove il decreto quindi è stato dichiarato di attuativo, è stato quindi dichiarato ufficiale di validità, altrettanto veloce non sarà la cifra da riscuotere in banca. Questo perché? Perché è necessario che anche le banche devono superare determinati vincoli. Il primo vincolo è quello che vi dicevo a dimensione europea ed è dell'antitrust europeo, il secondo vincolo poi è di natura procedurale, quindi fa parte di quelle condizioni interne che vi dicevo e che quindi bisognerà trovare un modulo, un modulo che possa essere utilizzato da tutte le banche in maniera tale che ci sia omogeneità nella fase burocratica e poi ci sarà sempre una valutazione per evitare le cosiddette frodi. Quindi non lasciamoci prendere dai facili entusiasmi ma non andiamo nemmeno in totale depressione perché comunque bisognerà svolgere un iter. Se probabilmente qualcuno lo riesce ad accettare per aziende di grandi dimensioni dove la garanzia avviene attraverso un organismo che si chiama SACE e che quindi ha una struttura già ben delineata, forse diventa più semplice accettarlo proprio perché è destinato alle grandi imprese e già questa dimensione ci porta a vederla in maniera leggermente più complessa e quindi più accettabile, paradossalmente difficilmente riusciamo ad accettare con grande semplicità cifre per così dire banali ma sempre importanti che sono quelle a cui mi riferivo all'inizio, le famose cifre dei 25 mila euro che crediamo invece possano essere di smobilizzo immediato. In entrambi i casi bisognerà rispettare degli iter e questo ci aiuterà anche a capire come un'emergenza così particolare come quella che stiamo vivendo non è facilmente superabile da ciò che abbiamo creato in precedenza. Quindi noi paghiamo lo scotto che un po' ci contraddistingue cioè di essere molto burocratizzati. Adesso non voglio entrare nei dettagli o trovare colpe perché in questo momento non serve a nessuno. Quello che noi dobbiamo fare è senz'altro cercare di trovare le soluzioni. Ecco, la Banca d'Italia ha dato l'ok, ha detto che le banche possono erogare tranquillamente i prestiti quindi c'è un ok ma non sarà veloce, non sarà facilmente disponibile. Se tutto va bene, almeno quello che si dice da ciò che abbiamo raccolto, questo sarà possibile soltanto verso fine di aprile. E quindi non vorrei che accada questo, che mentre il medico studia l'ammalato muore. Però credo che sia anche interesse degli istituti di credito a cercare di accelerare quanto più possibile le procedure. A tal proposito, proprio per non essere l'unica campana a parlare dell'argomento, abbiamo raggiunto telefonicamente qualcuno che ci potrà senz'altro aiutare a capire qual è il proprio pensiero. Non è vero Alberto? Sì, infatti abbiamo raggiunto telefonicamente Romualdo Rondina, che è il presidente della banca di case cooperativo di Fano, al quale abbiamo chiesto appunto la sua posizione in merito. Se a un'azienda, che ritengo sia un'azienda che ha una prospettiva e gli viene a mancare l'attività ad amblè, non possono più svolgere l'attività, per tanti motivi, ma sono motivi legati sicuramente alla questione del virus, questo qui è in dubbio, perché questo ha cambiato le prospettive per molti, quindi già lo stile di vita delle persone e dover comunque organizzare la propria azienda, pensiamo che quelle che sono negli settori che non sono proprio magari soltanto in funzione del combattere il virus, ma sono anche in situazioni di aziende che possono riprendere, quindi devono avere tutta l'attenzione, perché qui è chiaro che la salute prima di tutto, però non possiamo mai stare qui a far passare tanti altri mesi, perché poi veramente molte aziende non riescono a ripartire, noi abbiamo detto aiutiamo, rimanteniamo la liquidità, però bisogna anche che riprenda le liquidità, bisogna assolutamente, perché non ci sono finanziamenti che tengono. Abbiamo sentito e infatti è espressa in termini assolutamente collaborativi, ma sono ovvie alcune considerazioni in merito dal punto di vista dell'istituto bancario. Uno, mi rivolgo ad aziende che sono già clienti della banca, questo vale in senso generale. Due, mi rivolgo a clienti che hanno già dimostrato una solidità economica del loro business plan e che quindi il bisogno di liquidità è riconducibile solo e soltanto all'emergenza virus, perché altrimenti io rischio di finanziare un'impresa che non si sarebbe comunque potuta sostenere a prescindere dal virus e quindi il virus diventa un elemento aggravante e quindi diventa ancora più improbabile che io possa rientrare da questo debito. Mi ricollego al tuo discorso Giuseppe, per fare una semplice considerazione statistica. Consideriamo le centinaia, le migliaia di imprese che potrebbero fare richiesta di questi prestiti garantiti dallo Stato e in un momento in cui viviamo ancora lo smart working, viviamo l'appuntamento, la visita in banca solo per appuntamento, viviamo la burocrazia come tu hai segnalato, burocrazia che era già lenta prima e che adesso si complica perché c'è un attore in più che è appunto lo Stato, immaginiamo banalmente quanto tempo ci vorrà per sbrigare una pratica di finanziamento, ma pensiamo anche a quelli oltre i 25 mila euro. Il famoso 10% che invece non è garantito dallo Stato verrà probabilmente garantito da una centrale FIDI regionale o da un CONFIDI o da un qualcun altro e quindi ci sarà la pratica anche di questo qualcun altro oltre alla pratica dell'istituto bancario e quindi i tempi si allungano. Per questo infatti che guardando quello che succede dall'estero molto velocemente ho visto che lo Small Business Act statunitense così come la Confederazione Elbetica hanno invece deciso di erogare direttamente questo credito alle imprese con una richiesta fatta online e quindi in Svizzera già dopo 48 ore le aziende hanno sul conto corrente il denaro disponibile, sempre in forma di prestito ma intanto è disponibile subito e quindi sappiamo quanto questo sia importante. Un'altra domanda che ci siamo posti è ammesso di ottenere questo prestito in tempi sostenibili, ne vale poi veramente la pena? Giuseppe? E questo è il grande tema, secondo me il grande tema su cui partirà la seconda fase, la seconda fase secondo me non è fatta da torniamo tutti in strada, torniamo tutti a vivere la vita quotidiana costellata dal nostro momento di aperitivo, della cena fuori o della pizza. La seconda fase è proprio questa, creare quello che sarà il nuovo decorso, la domanda che spesso tutti ci stiamo facendo o che viene posta da alcuni noi è ma che cosa cambierà? Saremo gli stessi? E' indubbio che non saremo gli stessi. Economicamente dovremmo cercare di capire quello che ci viene posto in questo grave momento, io credo che sia una grossa opportunità. Allora il fatto di avere un sostegno, adesso questo quando arriverà, che ci aiuti a ripartire, se lo faremo utilizzando le vecchie logiche senza riprendere lì da dove abbiamo lasciato e mi riferisco alla strada buona che può essere una diversificazione, che può essere un nuovo modo di concepire il nostro business, cioè se ritornare, ecco, se attraverso la seconda fase significa commettere gli errori che facevamo prima, credo che sia una grossa opportunità sprecata. In questo le aziende hanno molto da migliorare, devono cercare di fare una, come dire, un'analisi interna, devono cominciare a guardare in se stessi e a rimettersi in discussione secondo le nuove regole. Infatti noi ne abbiamo, collegandomi agli argomenti che abbiamo trattato nelle altre puntate, mi verrebbe, viene insomma da ricordare questi argomenti anche in questo momento. Cioè al di là di avere o meno la liquidità subito. L'importante però è, come dire, farsi un po', cioè l'esame di coscienza imprenditoriale significa farsi un business plan, significa farsi pianificazione, significa fare l'analisi dei rischi. Quindi il consiglio che noi ci sentiamo di dare all'imprenditore, prima di indebitarsi, ricordandosi che comunque è un debito, comunque si aggrava i conti del bilancio dell'azienda, comunque si va a usufruire del castelletto degli affidi, comunque viene restituito e in caso di non restituzione il credito da parte della banca diventa tra i privilegiati al pari degli enti previdenziali e quindi i fornitori ne rimangono fuori. Ma a prescindere da questo andiamoci a chiedere, ma se io oggi avessi questi soldi a disposizione, uno, che cosa ci faccio? Ci pago fornitori che non ho pagato prima perché mi devo garantire le nuove merci? Ci pago rate di investimento, di leasing, di che cosa? È effettivamente necessario mantenere tutti gli asset che io ho acquisito nel tempo? Ma al di là di questo è necessario fare un'analisi di sostenibilità pratica. Per esempio la mia filiera di approvvigionamento riapre insieme a me? Se io riapro e non ho magazzino di materie prime o di semi lavorati, ho a disposizione ciò di cui ho bisogno? E se anche ho a disposizione la filiera valle, cioè i miei clienti, a loro volta sono aperti e possono acquistare le mie merci? Possono pagare le mie merci? Quante aziende hanno formalizzato in forma di contratto l'acquisizione delle merci e la vendita delle merci? Io normalmente vedo al solito fax col preventivo, firmato per accettazione e rimandato indietro. Quello non è un contratto perché non prevede alcunché. soprattutto non prevede la garanzia di approvvigionamento. Pensiamo al fatto, al sfasamento delle riaperture. Sia che io lavoro in Italia, ma a maggior ragione se io lavoro con l'estero, sia come approvvigionamento che come vendita. Se io vendo in Francia o in Spagna e loro sono chiusi perché c'è uno sfasamento del ciclo del virus di 20-30 giorni, loro staranno chiusi per altri 20-30 giorni. Quindi è inutile che io apra adesso, è inutile che io vada a correre oggi, dove ho per prima cosa da stabilire con i sindacati le misure di sicurezza per i lavoratori. Potrei avere necessità di cambiare il layout all'interno dello stabilimento, della fabbrica o degli uffici per garantire la distanza sociale, per garantire la disinfestazione, per garantire che le merci non siano veicoli contaminanti. Parlo soprattutto nel mondo dell'alimentare. Quindi inizio con dei costi, per poi iniziare a produrre e potrei avere i magazzini pieni di merci che non riesco a smerciare. Ultima raccomandazione, chiediamoci se il nostro mercato di riferimento sta cambiando genere di domanda, perché non è detto che il mio prodotto venga ancora richiesto, perché almeno per i prossimi sei mesi molto probabilmente cambierà il modello sociale di riferimento e quindi alcuni generi non verranno più richiesti, alcune strutture non verranno utilizzate, alcune merci rimaranno nei magazzini. E quindi probabilmente l'esame da fare in questi giorni di fermo è proprio quello di analizzare la propria azienda, i propri processi, i propri mercati di riferimento, di materie prime, semilavorati, clienti, logistica, servizi di cui mi approvvigiono, per vedere se ho la garanzia che tutto l'impianto sia ancora in piedi, che sia in piedi secondo i livelli servizi di servizio che a me servono e se non l'ho fatto prima, assolutamente obbligatorio contrattualizzare e garantirsi tutte queste infrastrutture, altrimenti ho rischio di aprire con maggior debito un'azienda che però non ha la benzina per continuare ad andare avanti e quindi peggioro ulteriormente la mia situazione. Quindi è meglio che io stia chiuso e riapro quando sono sicuro di poter incassare. Giuseppe, hai altri suggerimenti? Il suggerimento più forte e quasi in maniera ripetitiva che mi sento di dire e di dare è proprio questo, attenzione all'utilizzo delle cifre prese in questo momento a sostegno della ripartenza. Le aziende devono cercare di arrivare preparate, valutare per bene se il caso di utilizzare la liquidità che oggi viene offerta è una liquidità, ricordo che è un prestito garantito dallo Stato e che se oggi potrebbe rappresentare un vantaggio, attenzione che potrebbe costituire un appesantimento nel futuro. Perché guardate, molte aziende sono scelte non soltanto in base alla qualità del prodotto che è un prerequisito secondo me, ma sono scelte anche sulla base delle loro capacità finanziarie e la voce di indebitamento è una voce che viene tenuta sotto controllo da parte delle aziende clienti. Sembrerà strano, ma è così. Io nello scegliermi il fornitore vado anche a valutare la sua capacità di potermi garantire e onorare non in termini qualitativi, perché potrei sempre contestare un pezzo se è lavorato male e se non è fatto come si suol dire regola d'arte, ma quel che mi interessa è la sua capacità nel tempo di continuare a fornirmi. Mentre oggi il tutto si muove secondo canoni di solidarietà, perché ripeto l'evento è un evento mondiale, è un evento globale che ci tocca a tutti quanti, poi alla fine giustamente come faceva notare qualcuno, ciò che resterà saranno i numeri e quando avremo perso memoria di quel sentimento che oggi ci unisce, credo che sarà un po' dura cercare di riportare un dialogo sulla base di un evento che ha avuto carattere straordinario. Nulla toglie a questo, quello che sto dicendo, alla necessità di avere della liquidità da immettere in maniera molto veloce per ripartire. Credo che il tutto non potrà esaurirsi a breve tempo, perché i cicli economici, anche quelli più brevi, hanno delle ripercussioni nel medio e lungo periodo. Sarà una bella sfida e quindi torno a dire attenzione la finanza è importante, ma va gestita nella giusta dose e soprattutto va ben controllata. Bene, bene Giuseppe, grazie, noi salutiamo chi ci ha voluto ascoltare o guardare, rimandiamo all'appuntamento di dopodomani dove è previsto anche un ospite in presenza video, sarà monotematico e con questo io vi saluto. a rivederci, grazie Giuseppe e grazie a tutti quanti. Grazie ai nostri ascoltatori, speriamo di aver dato un contributo, come sempre diciamo, di riflessione. Ci rivediamo e ci risentiamo al prossimo incontro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.